un accordo stellare di gianna fabrizi e pietro gasparri in questa terza e ultima giornata di congresso lasciata roma l'attenzione si è spostata nella tuscia in particolare nella suggestiva tuscani due gli appuntamenti di rilievo il congresso dal titolo vino e cucina durante il quale è stato sancito un accordo di collaborazione tra la boscolo etual academy e la fisa e successivamente la visita a questa vera e propria accademia tra le più prestigiose del paese dove si preparano i futuri chef stellati di questa italia enogastronomica nei termini di questo accordo fisar si impegna ad integrare le attività formative della bosco l'attuale academy presso la sua sede di toscania con corsi di avvicinamento al vino e corsi per sovredere durante la mattinata è stato firmato un accordo tra la boscolo etual academy e fisar noi non facevamo corsi di vino abbiamo sempre fatto corsi di cucina di pasticceria abbiamo sempre curato il food al massimo questo da 30 anni il vino era necessario avvicinarlo era l'occasione è stata che la fisar cercava un partner food noi cercavamo un partner vino abbiamo iniziato e oggi abbiamo siglato l'accordo dove ci vedrà partner e in questi due settori noi nel food e loro nel vino e viceversa la fisar che è federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori da sempre quindi legata anche a doppio filo con la ristorazione con gli chef ha stretto da oggi un accordo di collaborazione con la boscolo etual academy che è la più prestigiosa scuola di formazione gastronomica per professionisti che c'è oggi in italia fisar porterà a loro la conoscenza che abbiamo che abbiamo accumulato in 40 anni di storia 40 anni di attività di formazione sul vino che si vanno a legare alla formazione sulla cucina fatta dalla boscolo etuale la figura femminile che è emersa in questo congresso nuova più attuale più fresca la figura femminile come sommelier è sempre più importante e comunque vedo anche nei vari corsi è sempre in aumento proprio la figura della donna voi per sensibilità per una questione che siamo più sensibili anche a livello olfattivo ci piace molto avvicinarci a questo mondo che tanti anni fa era prettamente mondo maschile adesso invece secondo me vorrei dire che siamo quasi alla pari grazie anche a tutte queste persone che lavorano che credono e che hanno ancora il cordone umbilicale legato alla terra che devo dire? io niente l'essence ma a me basta è da Rabascolo Academy insieme a Rossano Boscolo è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie